Un saluto ben ritrovati, un rapido aggiornamento per quanto riguarda la panchina del Milan, mi raccomando commentate numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella numerosissimi mi raccomando, ci tengo, grazie. Allora, panchina Milan, Emery sembra che rinnovi, poi Lopetegui sembra in direzione West Ham, la nuova, o meglio non nuova, ma una fiamma che si sta accendendo in maniera importante è quella di Mark Van Bommel, che all'anversa lo scorso anno ha vinto il campionato. Profilo molto vicino a Zlatan Ibrahimovic, che è stato già al Milan, nella stagione 10-11, lasciando un bel ricordo da calciatore, da allenatore, ha fatto cose discrete. Su Conte al momento non risultano ripensamenti, c'è sempre il nome di Marco Rose, c'è il nome di Consei Sao, c'è il nome di Fonseca e l'obiettivo è quello di arrivare a scremare per poi decidere questo nuovo allenatore del Milan. Sono tutti i nomi, quelli che vi ho fatto, che hanno una componente medio alta di rischio, di scommessa, che tu andresti a ridurre in Serie A con Antonio Conte e con anche Tiago Motta. Per oggi non sono i due nomi, tutto il resto invece c'è e è un tutto il resto che secondo me non è purtroppo positivo. Chiudo poi con una riflessione anche su Calabria, che a gioco fermo si è fatto espellere due giornate di squalifica da capitano del Milan. È stato secondo me un fatto grave, che dimostra anche da questo punto di vista un'inadeguatezza di Calabria a essere il titolare capitano del Milan, sempre capitano del Milan. Non basta essere quello che è lì da più tempo, serve anche dell'altro e ha fatto davvero qualcosa di molto negativo. Ha creato un danno importante, anche se qualcuno dirà è meglio che non gioca a Calabria, sì, però anche a livello di immagini non è stata una bella scelta, una bella mossa e si è beccato due giornate di squalifica. Giocando secondo me anche magari un 1% di possibilità di andare all'europeo, un 1%. Commentate, lasciate un like, iscrivetevi da questa parte, ditemi chi vorresti in panchina. Tra quelli che circolano, non ditemi Tiago Motta o Conti, ma tra quelli che circolano. Un saluto, grazie.